Come posso portare equilibrio nel mio centro emotivo? Ecco la domanda suggerita dal re di coppe che ci accompagna nella settimana dal 15 al 21 di marzo e questa è una carta che si riallaccia a doppio nodo al controllo delle nostre emozioni ovviamente un controllo intelligente, non un controllo asfisiante con la maestia emotiva di tutti i re, specialmente quello di coppe quando la vita ci mette a dura prova possiamo attingere alla maturità, alla stabilità dei nostri sentimenti per superare le sfide indipendentemente poi dal grado di maturità emotiva che abbiamo raggiunto ecco questa include il non lasciarsi andare alla sopraffazione, alla paura, rimanere saldi sui propri principi non lasciare che le circostanze prendano il controllo e ci spingano dentro quei turbini emotivi che invece possiamo facilmente evitare a tutto favore delle energie ovvio, questo varia da persona a persona potrebbero anche esserci delle persone che vedono la pace interiore come qualcosa da rifiutare categoricamente oppure potrebbero esserci delle persone che vedono la tua pace interiore come motivo di sfida, motivo di invidia, come qualcosa da attaccare e allora ancora una volta lì maturità per te sarà non cedere alla voglia magari di litigare con queste persone ma nemmeno dargli un là, nemmeno cercare di capire e di spiegare quello che vogliono da te perché è importante che siano loro a cambiare ecco la maturità del seme di coppe ti permette di continuare sulle tue frequenze e come dicevamo sempre ieri nonostante il seme di coppe ci spinga nel campo emotivo possiamo anche pensare che la carta inviti a prendere delle decisioni intelligenti il che significa non farsi influenzare da tutte quelle circostanze esterne che potrebbero portarci a discorsi invalidanti per invalidanti intendo che corrompono le nostre convinzioni e la nostra morale ecco perché era importante questa settimana lavorare proprio sul centro emotivo come portarlo ad equilibrio ho fatto questo diraggio con gli arcani maggiori tu ovviamente potrai utilizzare tutto il mazzo se la carta della settimana fosse entrata in qualche modo in diretta frequenza con la tua persona o con la tua essenza ora una lettura tarologica insomma molto accademica molto facile molto basica potrebbe dire andare verso non lo so un maestro creativo però io quando ho visto queste carte ho girato immediatamente il significato virando su un discorso che per me apre uno spaccato molto più interessante e allora il matto lo possiamo inquadrare non tanto come l'andata verso il che va benissimo per determinate letture ma quanto la libertà ecco una libera matto espressione papa creativa come posso equilibrare il mio centro emotivo con una libera espressione creativa ed è strano di primo acchito mettere insieme la creatività con le emozioni strano sì ma non impossibile per tutte le persone infatti che sono dentro a un mondo inerente per esempio i chakra ecco che possiamo vederci un'espressione poetica del secondo chakra è un chakra che si allaccia all'acqua è visto un po' come una sfida perché ci fa fluire ci lascia libertà di sessualità e di creatività ecco emotivamente se siamo disconnessi da questo punto energetico possiamo sperimentare emozioni devastanti come la gelosia il senso di colpa la possessività una superficialità nei rapporti tutte espressioni presenti anche nell'arcano 15 addirittura potremmo provare vergogna del nostro corpo del metterci a nudo della nostra sessualità rifiutare noi stessi o andare all'altro estremo e divenire esibizionisti e ancora è un'energia espressa dal diavolo ecco perché credo che l'espressione creativa portarla avanti con libertà possa anche riflettersi sul discorso emotivo e queste tre carte ci invitano a fare questo liberare la nostra espressione creativa per portare un nuovo equilibrio al centro emotivo